La fotografia di un anno sul mondo del lavoro si presenta in chiaro scuro con la percentuale più alta di licenziamenti per i contratti a tempo determinato degli ultimi dieci anni, ma anche nel maggior numero di assunzioni a tempo indeterminato da gennaio a ottobre del 2022. Infatti in questi dieci mesi si registrano oltre 6 milioni e 900 mila nuovi posti di lavoro con un aumento del 14% rispetto al periodo precedente. Le cessazioni sono state quasi 6 milioni e 300 mila in salita in confronto al 2021 del 21%. I dati emergono dall'osservatorio IMSS sul precariato, aggiornato all'ottobre scorso, quindi la variazione netta dei rapporti di lavoro risulta positiva e pari a 650 mila, di cui 359 mila contratti a tempo indeterminato e 148 mila contratti a termine. Il report sottolinea che dopo il 2015 non si era mai registrato nei primi dieci mesi dell'anno un numero così elevato di assunzioni a tempo indeterminato, in diminuzione invece i lavoratori impiegati con contratti di prestazione occasionale, i nuovi voucher in diminuzione del 6%.